buongiorno ca sonio ca va beh riflessione scetto è il momento riflessione anzi più che riflessione consiglio consiglio per tutte le persone che mi guardano scetto perché non vi portate avanti perché non non guardate già il futuro scetto futuro lontano scetto essendo che oggi le giornate sono piene sono 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 impegnate su scetto poi mi direte non so ma chi sta ricendo sta bladeranno stamattina non sta e bladeranno perché non cominciate a prendere la mia foto e l'appiccicate su tutti i social e cominciate a scrivere quanto era bello quanto era intelligente quanto era simpatico ma quanto ci faceva ridere e che bravo ragazzo che era scrivete al presente non al passato scetto così a me non vi buttate avanti perché tanto questo succederà prima o poi succederà no scetto quindi anziché scrivere tutte quelle belle cose quando la gente muore picchino e scriviti quando i genti suvivi certo avevo questo questo stavo riflettendo su questa cosa scetto ora anch'io comincio a scrivere su sulle persone che magari fra un anno moriranno fra dieci anni moriranno comincio a scrivere delle belle cose mette la sua foto scetto buon augurio ci allunga vita scetto cominciate a mettere meglio ovunque e cominciate a dire ma quanto era bravo quanto era bello quanto era scetto ma lo spieghi a questa mattina io questi pensieri scetto anche voi anche voi pensate queste cose vero scetto a dopo a dopo